Siamo nelle gallerie delle carte geografiche, nel cuore dei musei vaticani. Se uno cammina qui, vede attraverso l'Italia, come faceva quel Papa famoso che l'ha voluta, Gregorio XIII, vede da una parte le regioni d'Italia che prospettano sull'Adriatico, quindi dal Friuli, Venezia e Giulia fino alla Puglia. Dall'altro lato le regioni d'Italia che guardano invece il Tirreno, dalla Liguria fino alla Sicilia. Ogni affresco racconta le città, i paesi, le frazioni, i villaggi, descrive i fiumi, le montagne, i boschi, i laghi. E racconta anche la storia, perché i grandi episodi della storia sono rappresentati dentro ciascuna carta geografica. I dipinti della Galleria delle Carte Geografiche erano stati rivestiti tutti quanti da una colla stesa a mo' di vernice che nel corso dei secoli si è ingiallita, perché si è ossidata, stesa all'epoca perché poteva ridare luminosità alle superfici invecchiate. Il nostro intervento in primo luogo ha restituito il rapporto cromatico corretto che questi dipinti hanno. Non solo, ma questa sostanza sovrammessa appiattiva tutto quanto, per cui le montagne, le valli e le colline non avevano perduto completamente il loro plasticismo e in questo senso l'intervento ha restituito la profondità e la prospettiva a tutte quante le superfici. Lasciando i grandi restauri che ci sono stati, la Cappella Sistina, le stanze di Raffaello, dove l'impegno del laboratorio è stato ventennale, abbiamo voluto ridare al pubblico questa galleria con un impegno di circa quattro anni. Una delle prime emozioni è stata la scoperta del colore. Il secondo passaggio per un turista già più attento, che segue il dettaglio, è stato di andare a riscoprire il paese di origine di ogni turista, magari italiano.